Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ferrari 330 P4, l'auto che tra il 4 e il 5 febbraio del 1967 con i due piloti Lorenzo Bandini e Chris Hammond ha vinto la 24 ore di Daytona salendo sul gradino più alto insieme ad altre due Ferrari carrozzate Berlinetta, questa era l'unica carrozzata Spyder, davanti alle Ford GT40 MK2 in casa Ford. Una bella soddisfazione per la Ferrari e per i tifosi italiani. Innanzitutto questo che vedete per chi non lo conoscesse è il mio amore Michelangelo che a non appena preparo il cubo box lui si fionda subito dentro. Volevo ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, tutti i miei abbonati che con i loro soldini contribuiscono a mandare avanti questo canale e a tutti gli altri dico, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto, infine qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi può contattare privatamente, grazie. Se io non pubblico i video ragazzi è perché non mi arrivano i numeri, così come l'Audi 4 sono andato a ritirare il numero 90 questa mattina ma io sono fermo al numero 78 perché il 79 non mi è ancora arrivato, che è la parte centrale dell'auto dove poi vanno montate le portiere, i parafanghi, i laterali, quindi sono fermo ma non è che ho rinunciato alle collezioni, potrebbe anche capitare in futuro, spero di no, però qualora dovesse mai succedere questo fatto nefasto perché poi a seguito di questo chiaramente ci sarebbero altre motivazioni più importanti, ve lo farei sicuramente sapere. Quello che invece sono andato a leggere non essendo un intenditore delle corse ma un estimatore delle auto sì, più che estimatore sono uno che ama proprio l'estetica delle auto, ecco, quest'auto è bellissima per me. Ho letto una cosa che sicuramente i tifosi sapranno ma io non la sapevo ed ecco, ed è questa qua. Chris Emon, uno dei due piloti, collaudatore eccesso e pilota sfortunato. Ecco, ho letto questa didascalia qui, questa brutta scritta, la Ferrari 330 P4 di Emon Bandini in azione alla 1000 km di Monza del 1967, il pilota neozelandese e l'italiano, appunto Chris Emon e Lorenzo Bandini, vinsero la gara, fu l'ultima vittoria per Lorenzo Bandini che due settimane dopo avrebbe perso la vita a Monaco, non Chris Emon, chiedo scusa, Bandini e questo io non lo sapevo proprio perché sono ignorante della storia di questa auto. Allora ragazzi torniamo a noi, all'interno troviamo parte dello scarico sinistro con collettori e tutto in plastica fatta eccezione per questa staffa, ok? Allora la prima cosa che vi consiglio di fare, qua troviamo anche una serie di viti AAP, ecco qui, io sono andato già a mettermi una vite qui, mi sono creato il filetto e mi sono andato a creare i filetti su tutte e tre, vedete le parti, però attenzione perché dovete prendere una lima e andare a consumare la parte che sbava, altrimenti il collettore non vi chiude bene, mi raccomando l'ultima parte dello scarico sulla flangia non chiude bene, quindi attenzione. Poi sono andato ad allargarmi un po', a smussarmi conicamente questo foro, certamente non fino in fondo, per facilitare, chiedo scusa, l'entrata di questi due perni perché è facile danneggiarli. Poi un consiglio anche che vi do è questo, prendete il motore, stiamo lavorando sulla parte sinistra, scarichi sinistri, prendete le flange, maneggiate con cura e con attenzione il motore, vedete io vi avevo consigliato di non mettere questi pezzi perché essendo a mezzaluna l'inserimento, cosa fai amore? Se hai partito così, tu stai fermo, si possono danneggiare se li urtate, li metterli solo quando andrete a montare il motore, così non ci sarà alcun pericolo. Ecco queste flange qui, ok, vanno inserite qui, così, prendiamo quella con il perno, dov'è? Che è quella che ci interessa di più, ecco questa qui, questa qui poi dobbiamo andare a vedere che entri bene in questo che è il primo. Michelangelo ma cosa stai facendo amore mio oggi? Stai fermo! Vedete? Ci accertiamo che entri perfettamente così, altrimenti poi si fa fatica a inserirlo e ve lo dico. Ok, in realtà non è ancora entrato bene. Facciamo così. E' importante fare queste prove, altrimenti poi fate una fatica pazzesca. Ecco, vedete, si inserisce molto bene, va in battuta. Vedete? Perché se non entra bene dovete aiutarvi prima, perché poi una volta montati tutti i tubi non è così facile. Per quanto riguarda invece gli altri non vi dovete preoccupare perché ci saranno le viti passanti. Ok, bene, mettiamo via questo un attimo e passiamo al montaggio. Allora, mi fa in realtà montare prima questo pezzo, ma io lo metterò dopo aver inserito il tubo qua dentro. Scusatemi, non si vede niente. Dicevo che ci fa montare per prima cosa questo tubo qui, ma non vi conviene perché è molto più semplice prima attaccare il tubo all'interno qui e poi andare a mettere questa parte sopra. Ok? Accertatevi solo che vi entrino i perni perché se vuoi spingete forte, lo danneggiate il perno, lo rompete, mi raccomando, fate attenzione. Allora, arriviamo a noi. Prendo prima questo che è il tubo L1, contrassegnato con la sigla L1, lettere numero, prendo questo che ha il perno, vedete che è l'unico che ha il perno che esce, lo metto così e metto la mia vite AAP. Essendomi creato il filetto prima vi garantisco che è tutto più semplice. adesso, nell'immagine, lui mi fa vedere di metterlo così, con il perno rivolto così. Io lo stringo un po', però non vi dovete preoccupare perché quando andremo a inserire la marmitta, questo comunque, non lasciatelo troppo morbido, lo potrete tranquillamente spostare per metterlo più perfettamente nei fori dei collettori, poi lo vedremo insieme. Poi prendo questi due, L2, eccolo qui, vado a svitarmi la vite, l'unica che abbiamo ricevuto in questa, in questa, dov'è? L'altro pezzo, stavo cercando l'altro, me l'ha fatto volare il mio gatto prima, vediamo un po' se riesco a trovarlo, eh? Ebbene sì, ragazzi, il mio topolino me l'aveva lanciato qua sotto in mezzo. Allora, siamo arrivati al tubo numero 2, lettera L, eccolo qui, quindi uno o l'altro sono uguali, questi due, l'unico che cambiava era quello che aveva il perno che usciva, quindi lo mettiamo, sempre dopo aver limato la testa, mi raccomando, lo mettiamo contro così, e mettiamo un'altra vite, A, A, P. Siamo qui, alla foto con la lettera B a pagina 218, questo lo posizioniamo così, ma ripeto, ricordatevi che poi lo possiamo svizzare come vogliamo, come vogliamo, come ci servirà poi per mettere le viti, le due viti che andremo poi a avvitare qua, dove ci sono gli spazi per poi mettere questo. E infine, questo pezzo qua, vedete? Anche questo è stato limato, adesso in piano, metto la vite, con la mia flangia, ecco qui, questo me lo fa mettere così, allora, questa è la parte sinistra, penso sia messa così, quindi mettiamo questa parte con lo sfido di lavorazione da questa parte qui, ok, bene, ecco qui, questi tre pezzi sono stati montati, adesso, in questo pezzo qua, allora, qui, messo così, ci fa mettere il 55D, che è il secondo che abbiamo montato, questo invece è l'altro, e questo è L1, L1 va messo qui, l'inserimento è univoco, non vi potete sbagliare, perché è a mezzaluna, ok? Quindi, questo è messo così, va messo da questa parte, attenzione, ecco qua, questo va messo così, l'altro va messo di qua, sempre l'inserimento, è a mezzaluna, quindi non potete sbagliarvi, fatemi vedere un po', sì, è così, allora, leviamo questo qua, che è più facile, e questo invece mi fa fare più fatica, lavoriamo diritti, altrimenti si spezza subito il perno, ecco qua, perfetto, rimetto questo, voilà, ok, così, e infine, devo andare a mettere questo qua sopra, inserisco questo, fate attenzione, con la lima, andate a consumare, quel trattino che avete sopra, che in realtà l'hanno messo, per avere più resistenza, e tenuta una volta entrato, però piuttosto incollatelo, perché? Perché quando, la parete è così sottile, e avete sia, un segmento sotto, che sopra, che è stato fatto apposta, io le ho limati tutte e due, può succedere, che vi si rompa la plastica qui, andate a vederla, e molto probabilmente, troverete una crepa, perché è troppo sottile, invece, così, va benissimo, non si muove, non si è crepato nulla, qui vi ricordo, che ho allargato i fori, solo in entrata, ovviamente, e adesso proviamo a inserire questo, allora, fatemi vedere come di qua, questo è così, intanto lo inseriamo, ok, perfetto, ma ancora di qua va inserito un po', così, anche questo è perfetto, adesso, vado a mettere questa parte, che è l'unica in metallo, la vado a mettere qui, metterla così o così, non cambia nulla, quello che non dobbiamo sbagliare, è la posizione, vediamo un po', allora, se io la metto così è corretto, se la metto così non è corretto, vedete, così è sbagliata, così è giusto, adesso vi faccio vedere, comunque è spiegato benissimo sulle istruzioni, insomma, se magari siete un po' distratti, è possibile sbagliare, altrimenti no, anche qui stringete, non troppo forte, ma che sia abbastanza resistente, al movimento, così poi lo andremo ad addrizzare, per farlo coincidere perfettamente bene con il foro, oppure sarà possibile, magari avvitarlo dopo, però insomma, io l'ho lasciato abbastanza rigido, ma mobile, ecco qua, vedete, così è corretto, bene, adesso, visto che stiamo lavorando sulla marmitta, sul tubo di scarico sinistro, sinistri, vi ricordo che il modello va sempre visto da dietro, lato destro, quindi lato sinistro, questo va quindi messo così, questo andrà qua sotto, eccolo qui, e questi, vedete, li possiamo regolare, alla perfezione, una volta che sono messi così, però c'è qualcosa che non mi torna, allora, c'è qualcosa che non mi torna, perché i due scarichi vanno bene, ma non va bene l'altro, fatemi pensare un po', ve ne sarete accorti anche voi, sul vostro, allora, andiamo a vedere, metto pausa, altrimenti, perché ci sarà da ragionare un po', qui, allora ragazzi, avevo semplicemente interpretato male io, questa figura, adesso è corretto, vi faccio vedere, avevo montato questo, al contrario con questo, perché, avevo messo il pezzo così, vedete, 55C, l'avevo montato qui, l'1, invece l'1 va montato, qua, vedete il tubo, l'1, l'2, l'3, dove abbiamo messo il pezzetto, a pressione, quindi, l'3, l'2, l'1, infatti, adesso, a me sembra che vada bene, questo, poi, bisogna vedere, se passerà qua in mezzo, vediamo un po', devo fare una prova, questo passa di qua, no, non potrà assolutamente passare così, perché andrebbe sul leverismo dell'amortizzatore, quindi, può solo passare così, sopra, ecco, sempre attenzione al motore, questo lo mettiamo dentro così, poi ci andranno le viti ovviamente, eccole qua, e qua è dove vi dicevo, che poi, se non combaciano le flange con i fori, vi basterà girarle, ecco così, infatti adesso va bene, vedete, toccano tutte e tre, e rimangono poi così, quindi va benissimo, e questa staffa, va proprio girata così, perché non può andare in questo foro che vedete, è troppo distante, quindi va messa proprio così, quindi ecco, questo è parte dello scarico, l'unica cosa è che vedo questi due perni qui, e non so dove andranno poi messi, ci sarà qualcosa sopra, mi sembra strano, eppure è così, non vedo altro modo, è così, va bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo, il video termina qui, un abbraccio e un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri più cari, e grazie a tutti quelli che sautano il mio amore, Michelangelo, eccolo qui, lui che dorme, anzi, dormiveglia, mi fa sempre compagnia, meno male che c'ho lui, questa è l'unica mia più vera ricchezza, insieme alla mia mamma che ha fatto quello che ha fatto, ma è sempre la mia mamma, e purtroppo adesso non sta bene, eh sì, c'ha l'alzheimer, il mio amore, anche se lieve, ma è una cosa molto triste, bene ragazzi, grazie ancora a tutti i miei abbonati, se avete piacere, condividete i miei video nei gruppi dedicati, e questo mi porterà sicuramente qualche iscritto in più, e a voi vi impegnerà, impegnerà qualche minuto del vostro tempo, che è sicuramente prezioso, grazie a tutti ragazzi, un abbraccio, ciao!